21 luglio Tutte le fonti della mia gioia sono in te Salmo 87,7 Il segreto della felicità L'uomo è penenemente alla ricerca della felicità ricerca che spesso rimane disattesa Quanti libri e trattati sono stati scritti su questo argomento? Elargendo consigli incapaci di mantenere quanto promesso Tuttavia esiste un libro che è in grado di dare una risposta a questo profondo bisogno del cuore dell'uomo La Bibbia, la parola di Dio Essa sa dare consigli veri perché è stata aspirata da colui che ha creato il cuore dell'uomo e di conseguenza ne conosce ogni sussurro e palpito Dio infatti ben conosce la causa dei nostri turbamenti e dolori e ne conosce l'unica soluzione Il problema dell'uomo è che si è allontanato da Dio L'unica fonte della gioia Ha escluso dalla propria vita proprio colui che poteva soccorrerlo e benedirlo Quale scelta infelice? Ma esiste una soluzione Tornare a Dio con tutto il tuo cuore Dalle parole della Bibbia il Signore ci invita a tornare a Lui Unica fonte di vita e gioia Accostiamoci quindi a Lui con tutto il nostro cuore La nostra vita sarà rinnovata, inondata da una gioia infinita E potremo finalmente affermare Tutte le fonti della mia gioia sono in te Unica fonte di vita e gioia